Palermo, Lars approva legge finanziaria e bilancio, parzialmente accolte le richieste dei forconi, le oddini evidenzia il ruolo dell'opposizione. Vittorio arrestato con 150 grammi di eroina addosso, un cittadino liberiano nascondeva nel giubbotto la droga confezionata ai nobuli. Scoglitti, studenti pendolari senza abbonamento, le famiglie siano costrette a pagare ogni giorno il biglietto dell'autobus per mandare i figli a scuola. Ragusa ha presentato per sé sette il progetto Inexcess rivolto all'inclusione sociale di soggetti con dipendenze patologiche. Vi ritrovate ad un nuovo appuntamento con l'informazione di Free News. In apertura di questa edizione ci occupiamo di politica regionale. Approvata all'alba di oggi all'Ars la finanziaria regionale e anche il bilancio. Per il via libera definitivo è stata decisiva la presenza dei parlamentari di opposizione che hanno permesso il numero legale, votando però contro il provvedimento. A questo proposito il capogruppo del PDL Innocenzo Leontini ha rimarcato il ruolo dell'opposizione che ha contribuito anche all'assesura del provvedimento. Il bilancio e la finanziaria sono stati approvati. Il PDL insieme a PID, Grande Sud e Udc ha votato contro pur consentendo con la propria presenza in aula il numero legale per l'approvazione. Il capogruppo del PDL Innocenzo Leontini rimarca il ruolo delle opposizioni. Non dimentichiamo che il 31 marzo scorso, dichiarato Leontini, il governo e la maggioranza erano stati costretti a ritirare il bilancio finanziario per fare ricorso al quarto mese di esercizio provvisorio. Le entrate erano fittizie, le spese abnormi, gli investimenti per le attività produttive inesistenti, i servizi allo sbando, gli enti locali penalizzati. L'opposizione ha imposto una sostanziale modifica della manovra. Mediante un accontornamento negativo di 192 milioni di euro sull'accertamento delle entrate derivanti dal processo di valorizzazione del patrimonio della regione si sono ridotti i tagli al trasporto pubblico locale e collegamenti marittimi al Fondo Autonomie Locali. Inoltre l'aver insistito per una riduzione della spesa, riducendo di un ulteriore 10% le voci riguardanti contributi ad associazioni, organismi e fondazioni, l'ex tabella H e di un ulteriore 20% tutte le spese correnti del bilancio, ha consentito di recuperare quasi 100 milioni di euro per la spesa sociale, per le categorie produttive, per la salvaguardia dei prodotti agricoli, per le misure anti-taroccamento, per i servizi pubblici locali. Persino sugli ato l'opposizione ha imposto, ha sottolineato Leontini, la chiusura in tempi indefiniti e certi del processo di liquidazione e la modifica dell'impostazione precedente che caricava sui comuni il fardello della voragine debitoria degli ato nei confronti delle imprese e delle banche, determinando la loro rovina. Recepite infine, anche se parzialmente, le richieste avanzate dai forconi, come detto, tra cui le disposizioni anti-taroccamento, la creazione di aree destinate alla vendita dei prodotti agricoli locali e alla sospensione dei pagamenti dovuti alla Serit. Non condividiamo l'impostazione generale, abbiamo votato conto a entrambi i documenti, ha concluso Leontini, ma la nostra presenza ha consentito l'approvazione delle norme che riguardano le giuste richieste avanzate dai forconi. E passiamo adesso alla pagina di cronaca. È stato arrestato a vittore dalla squadra mobile della Questura di Ragusa, un cittadino liberiano che trasportava circa 150 grammi di eroina pura, suddivisa in 12 ovoli. Questa mattina conferenza stampa in Questura per illustrare i dettagli dell'operazione. Arrestato con l'accusa di spaccio di eroina, nella giornata di ieri gli agenti della quinta sezione antidroga della squadra mobile di Ragusa hanno tratto un arresto a vittore Abdelgadhaf Iosef, liberiano di 34 anni, clandestino sul territorio nazionale pregiudicato per reati specifici, in quanto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di circa 150 grammi di eroina pura, divise in 12 ovoli tenuti nascosti all'interno delle tasche del giubbotto. L'uomo è stato individuato mentre, con vale sospetto, passeggiava nei pressi della stazione dei pullman della città Ipparina. Alla vista degli agenti l'extracomunitare ha provato a fuggire, venendo prontamente bloccato. L'uomo non aveva ingoiato gli ovoli perché era un corriere professionista e grazie alla prontezza degli agenti non è riuscito ad ingoiarli in tempo. La droga avrebbe fruttato all'incirca 15.000 euro. Condotto in ufficio, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato il quantitativo di stupefacente e dopo le formalità di rito hanno condotto il 34enne liberiano presso la casa circondariale di Ragusa, a disposizione dell'EPM di turno alla dottoressa Claudia Maone. Sono in corso accertamenti per individuare il destinatario dello stupefacente e la piazza di spaccio alla quale era destinato. Il questore di Ragusa Filippo Barboso è invitato ancora una volta i cittadini a collaborare con le forze dell'ordine, anche se in questa operazione non è stata necessaria l'esigenergia tra i cittadini e gli organi inquirenti. E' chiaro, la polizia è presente, siamo in questi siti, li monitoriamo, cerchiamo questi corrieri e non sempre va bene, però negli ultimi tempi siamo contenti di aver eliminato della droga dal mercato. Stiamo indagando per vedere questa droga che viene da fuori, come viene smerciata, come viene commercializzata nella nostra provincia e su questo abbiamo indagini in corso. Speriamo di arrivare anche alle fonti di diffusione al dettaglio. E questa notte la sezione volanti della questura di Ragusa ha sorpreso quattro uomini, tre italiani ed un extracomunitario, intenti nella zona di San Giacomo di Ragusa a rubare i cavi di rame dalla linea Telecom. I quattro sono stati tratti in arresto. Operazione da parte della sezione volanti della questura di Ragusa che ha individuato quattro persone intente a rubare il rame. Ad essere presi di mira alcune linee della Telecom dell'SP59 al chilometro 8, Modica Gerratana, incrocio San Giacomo Friggintini. I quattro fermati sono Francesco Farrugio di 35 anni, Fabrizio Gagliano di 34, Martino Nicaso di 25 anni e un cittadino extracomunitario marocchino Arif Abdelati di 25 anni. Farrugio Gagliano e Abdelati sono pluripregiudicati per reati specifici, Nicaso invece era incensurato. Sono ritenuti responsabili in concorso tra loro del reato di furto aggravato di cavi della linea telefonica Telecom e interruzione di servizio pubblico. Intorno alle due di questa notte sono arrivate alcune telefonate anonime al 113 che segnalavano un furto di cavi di rame in atto, commesso da alcune persone che utilizzavano una Volkswagen Golf e un furgone bianco Mercedes. Le volanti si sono recate immediatamente sul posto. Entrambi i mezzi, nel momento in cui sono arrivate le pattudie, tentavano di direguarsi. Dalla Volkswagen Golf, mentre era ancora in lento movimento, è uscito dallo sportello posteriore al lato destro un uomo, il quale, dopo aver scavalcato il muretto a secco ed essere caduto per terra mentre saltava, sedato alla fuga per i campi circostanti. Lo stesso, identificato per Martino Ricaso e riconosciuto dagli agenti, è stato subito dopo arrestato da Cate. Gli altri tre sono stati prontamente bloccati sul posto. Dal controllo effettuato immediatamente sul furgone è stato rinvenuto un grosso quantitativo di cavi di rame già caricati all'interno e vari attrezzi utili per asportare il rame. Nel dettaglio sono stati ritrovati in seghetto per tagliare il ferro, una tronchesina e una grossa corda di 12 metri, utilizzata per ritirare il rame dai pali. Nel furgoncino c'era il rame tranciato, circa 350 metri, all'incirca 120 kg di materiale. Il danno subito dalla Telecom è di circa 10.000 euro. Il loro guadagno sarebbe stato invece all'incirca di 1.000 euro. Hanno arrecato danno a circa 100 utenze telefoniche. L'importanza è la segnalazione che abbiamo avuto da uno dei cittadini, che purtroppo è rimasta anonimo e non siamo riusciti a identificarlo, ma che ringraziamo. Questa è l'importanza del successo che abbiamo avuto. È la tempestività dell'intervento e la conoscenza del territorio da parte degli operatori, che in una zona impervia di campagna sono riusciti in pochi istanti a raggiungere il luogo segnalato e hanno tratto in arresto, in flagranze di reato, questi quattro soggetti già conosciuti ai nostri uffici. E continuiamo ancora con la pagina di cronaca. Vittoria, i carabinieri hanno tratto in arresto non tunisino, che era evaso dagli arresti domiciliari. L'uomo si trova adesso rinchiuso nel carcere di Ragusa. Arrestato con l'accusa di evasione dagli arresti domiciliari, nel corso dell'ordinario servizio di controllo del territorio, i carabinieri della Liguta Radiomobile di Vittoria hanno tratto in arresto per il reato di evasione Belkagem Abdelkarif, tunisino di 47 anni, celibè disoccupato. L'extracomunitare, al momento del fermo, era sottoposto agli arresti domiciliari nella città Ipparina, a seguito dell'arresto effettuato nel giugno del 2010 dal nucleo operativo e radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Monreale, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nel caso specifico a Ashish, in concorso con un cornazionale. I militari hanno notato Belkagem transitare a piedi in via Carlo Pisacane, con una piccola borsa in mano, in violazione degli obblighi imposti dall'autorità giudiziaria palermitana. A seguito della sua condotta, l'uomo è stato immediatamente tratto in arresto e condotto in casermo, dove, al termine delle formalità di rito, è stato associato presso la casa circondariale di Ragusa, a disposizione dell'autorità giudiziaria Iblea. Per rispondere alle esigenze di sicurezza e legalità e garantire una sempre maggiore presenza qualificata sul territorio, soprattutto in materia di circolazione stradale, il dirigente della sezione di Polizia Stradale di Ragusa Gaetano Di Mauro, nel pomeriggio di ieri, ha attuato il dispositivo speciale di controllo lungo la strada statale 115. Ma sentiamo i risultati in questo servizio. Una denuncia per porto abusivo di armi, una patente di guida ritirata, tre sequestri amministrativi e due carte di circolazione ritirate. Sono questi i risultati delle operazioni di controllo effettuate ieri pomeriggio dalla Polizia Stradale di Ragusa. In particolare al chilometro 330 della strada statale 115 Ragusa-Modica, gli agenti hanno attuato il dispositivo speciale di controllo che consiste nella predisposizione di un posto di blocco che consente di filtrare tutto il traffico in transito sull'arteria stradale. Sono state dieci le pattuglie impegnate tra la Polizia Stradale, il Reparto Prevenzione e Crimini di Catania e l'Unità Cinofila della Questura di Catania, 90 le persone e 65 i veicoli controllati, 6 le perquisizioni effettuate, 5 per ricerca di sostanze stupefacenti che hanno permesso di sequestrare 0,2 grammi di mariuane di segnalare alla prefettura un giovane ragusano 26enne e una per ricerca di armi che ha portato al sequestro di un coltello a serramanico e alla denuncia di un pozzallese di 26 anni per porto abusivo di armi perché trovato in possesso del coltello e per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Infine è stato sanzionato per trasporto abusivo uno ciclitano di 55 anni che trasportava una Fiat 500 dentro un furgone senza che avesse i titoli per farlo ed è stata sequestrata per la confisca una vettura nuova di un concessionario Ibleo in quanto l'auto era priva di targa e la targa prova era scaduta. E chiudiamo la pagina di cronaca e passiamo alla politica. Si è riunito, convocato dall'assessore provinciale al territorio in mente Giovanni Scucci, il lettavolo istituzionale per la concertazione del piano di security nel porto di Pozzallo da rendere operativo prima di entrare nel pieno della stagione turistica. In particolare si è discusso delle nuove soluzioni per permettere tra l'altro il regolare flusso di chi sbarca sul catamarano per l'isola di Malta, garantendo le esigenze di massimo livello di sicurezza per i viaggiatori, coniugato alle necessità degli addetti ai controlli. Erano presenti alla riunione i rappresentanti della Capitaneria di Porto, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri della Virtuferris e della ConfCommercio. Seduta ieri pomeriggio del Consiglio Comunale di Ragusa. All'ordine del giorno alcune comunicazioni da parte dei consiglieri presenti. Sentiamo. Seduta del Consiglio Comunale ieri pomeriggio a Palazzo dell'Aquila Ragusa. All'ordine del giorno comunicazioni e interrogazioni all'amministrazione. Gli interventi si sono concentrati principalmente su quattro argomenti. Il primo riguarda la vicina stagione estiva a Marina di Ragusa. Il consigliere Massari ha evidenziato la necessità di prevedere degli interventi a sostegno dei portatori di handicap di Santa Barbara, come delle passerelle che facilitano l'accesso al mare. Il vice sindaco Cosentini, presente in aula, ha anticipato gli intenti dell'amministrazione non solo in materia di servizi alla collettività, oggetto di una riunione tenutasi lunedì nella frazione balneare di Marina di Ragusa, ma anche per quanto riguarda i disabili. La volontà dell'aggiunta sarebbe quella di creare all'interno dell'operazione Spiagge Sicure delle postazioni sulle spiagge come aree ristoro per i portatori di handicap, in cui sarebbe possibile trovare delle sedie a rotelle in plastica. Al momento si tratta tuttavia di progetti che riguarderebbero solamente Marina di Ragusa, per la cui realizzazione bisognerà attendere l'inizio della stagione estiva. Sempre sulla frazione balneare è intervenuto il consigliere Martorana di Italia dei Valori, che ha spostato l'attenzione sulla piazza Duca degli Abruzzi, i cui lavori dovevano iniziare a inizio 2012, ma che adesso si dice siano stati spostati a settembre. Ma quali sono le intenzioni dell'amministrazione e il volere dei residenti, ha chiesto Martorana. Il secondo argomento su cui sono intervenuti diversi consiglieri ha riguardato gli interventi di urbanizzazione di via Grazia delle Edde, zone limitrofe. Queste zone nel 1978 sono state oggetto di una convenzione di lottizzazione con il Comune. I lottizzanti tuttavia non hanno proceduto a compiere le opere di urbanizzazione di loro competenza, per cui il Comune ha notificato loro una diffida. Il 31 marzo il termine della diffida è scaduto, per cui il Comune si trova nella possibilità di intervenire con vari pignoramenti. L'obiettivo ultimo è realizzare un progetto di recupero dell'intera area. Ma il Comune sembrerebbe preferire una linea più morbida, consentendo ai lottizzanti inadempienti di negoziare delle somme per la realizzazione di queste opere di urbanizzazione. A queste cifre, frutto della negoziazione, si andrebbero poi a sommare 200.000 euro stanziati dal precedente Consiglio per lo stesso scopo. Dunque, a detta del Vice Sindaco Cosentini, l'utilizzo finale di queste cifre sarebbe per la realizzazione di opere di cui il Comune ha parlato, ma che sono rimaste sempre sulla carta. Anche in questo caso bisognerà attendere per sapere se l'intento prospettato sarà rispettato. Terzo argomento riguarda la candidatura di Ragusa a Capitale Europea della Cultura, una candidatura criticata da alcuni consiglieri perché il capoluogo al momento attuale non sarebbe ancora in grado di competere con gli altri Comuni candidati. L'assessore Migliore presente in aula ha risposto che a prescindere dall'obiettivo e dal risultato è importante mettere in moto un processo culturale e operativo della città sulla base di una progettazione ampia che tocchi tutti i punti di eccellenza ai blei. Ottimo intento, ma con quali soldi si sono chiesti in molti? Bisognerà costituire un comitato tecnico, ha risposto l'assessore, per definire l'impegno economico che bisognerà affrontare. Ultimo argomento ha riguardato lo sport. Il consigliere di maggioranza, Sassacinto, ha ribadito l'importanza di inserire nel prossimo bilancio delle somme da stanziare per le società sportive, che invece erano state escluse dallo scorso strumento finanziario a vantaggio di altre attività. Bisogna rivedere l'atteggiamento dell'amministrazione, ha detto il consigliere, nonché presidente del CONI. Ma dov'era il consigliere Cintolo durante la votazione dello scorso bilancio? Si è chiesto qualcuno. Non poteva fare sentire il suo peso politico prima che si arrivasse alla chiusura di diverse associazioni? Il consiglio si riunirà domani alle 18. Restiamo a Ragusa e ci occupiamo adesso di una vicenda che riguarda il MUS. Il Partito Democratico di Ragusa ha chiesto ufficialmente all'amministrazione comunale di predisporre l'invio a Niscemi di una delegazione della città capoluogo, così come stanno facendo anche altri comuni della provincia, in occasione della tre giorni che si svolgerà dal 29 aprile al 1 maggio proprio a Niscemi. Chiediamo a Di Pasquale, si legge in una nota, di occuparsi in maniera attiva della salute dei ragusani e di non farsi distrarre dalle sue ambizioni politiche. Stiamo parlando di un movimento, il NOMUS, che sta assumendo sempre più consapevolezza, dicono dal PD, anche per le ultime notizie che testimoniano in modo inequivocabile. La pericolosità di questo radar è mostruoso che gli Stati Uniti intendono impiantare sulle nostre teste. Ci fermiamo adesso per una breve pausa pubblicitare. Torniamo tra poco.